Ho chiamato la polizia, ho chiamato la polizia, non ti devi muovere, quello è un reato, state torturando un animale, vabbè io ho chiamato la polizia, così non si può fare, ma non si può andare così in giro, no, figurati la festa la puoi fare, ma quella è tortura di animale, non ho detto che non puoi fare la festa, io ho detto che quella è la tortura, qua non si fa, in Italia non si torturano gli animali, in Italia non si torturano gli animali, ho chiamato la polizia, ma ora faccio arrestare, il medico sta, voi non ci sono parlato, hai ragione caro, anche io ho visto, ma che cosa è quella cosa là, ma non si può proprio pensare di fare una cosa del genere, ma ho chiamato già la polizia, c'è una pecora, una capra, due carruzzine là, voi guardi, ho chiamato io, ho chiamato io, ho detto grazie a tutti